Accadde oggi! Forse a causa di un carattere schivo è stato a lungo dimenticato per poi essere letteralmente riscoperto un'ottantina d'anni dopo la sua morte. Il 25 dicembre 1867, nella seicentesca casa di famiglia Vodo di Cadore, nasce il pittore Guglielmo Taramini. È Natale e il paese della Valle del Boite è terra di confine, dato che ai tempi l'impero austro-ungarico si estende fino a Cortina. La vita di Taramini però, almeno inizialmente, non guarderà molto verso nord. La formazione del pittore non è inizialmente artistica, ma tecnica e si svolge a Oderzo. Il primo impiego, il giovane Cadorino, lo trova in una ditta di legname. Anche lui, come i tronchi del Cadore per secoli, ha seguito la via del Piave. La passione per l'arte, a un certo punto, si accende in lui e si sviluppa fino a portarla ad abbandonare il lavoro per inseguire il sogno. Ancora una volta, come i tronchi del Cadore, Taramini segue la corrente del Piave e nel 1885 arriva a Venezia per frequentare l'Accademia delle Belle Arti, a 18 anni e a talento. Un talento che si sviluppa anche grazie alla frequentazione dell'Accademia di Monaco di Baviera, diretta da Franz von Lenbach, nella cui pittura si possono riconoscere alcune caratteristiche di quelle del Talamini maturo. Nel 1899, a 32 anni, esordisce alla Biennale di Venezia e i primi anni del Novecento sono segnati dalla partecipazione a esposizioni internazionali. Ricostruzioni mitologiche, ritratti, paesaggi montani, la pittura di Guglielmo Talamini spazia tra vari soggetti e si godagna un posto in molti saloni espositivi. Nel 1917 l'artista lascia Asolo, dove risiede, per raggiungere Faenza, città natale della moglie Angelina Acquaviva. L'evoluzione degli eventi bellici spaventa la coppia. Il Piave non è più un'autostrada fluviale dei tronchi, ma un sanguinoso teatro di battaglia da cui fuggire. I due quindi riparano nella cittadina in provincia di Ravenna. Per Talamini la permanenza sarà breve perché morirà nel febbraio del 1918 a soli 51 anni.